E' un'altra cosa nuova, volevo fare la scena dove dicevo chi ha il tuo gioielliere ma Chiara non vuole. Perché la gente quello odia se fa così lo scioglio. Vabbè, ma amore, i rapper fanno così, fanno vedere l'orologio, fanno le cose così da rap. Sono sfigato. Amore, ci vogliamo. Amore, amore, l'opulenza è insita nel rapper. Guarda ragazzi, scrivetegli se è uno sfigato nei commenti. Prego. Cominciate adesso. Chi ha il tuo gioielliere? Grazie. 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 Grazie.